La situazione, come sapete bene, come state registrando in tutto l'Abruzzo, ma in tutto il paese, è seria. La situazione è seria perché il contagio è un contagio che stiamo tentando di contenere e che dobbiamo contenere. Ma l'unico modo per farlo è rispettare le regole che ci sono state date dal Ministero della Sanità e soprattutto evitare di trovare un motivo per il quale si possa derogare a questa o a quella regola. È chiaro, c'è una difficoltà da parte dei cittadini che si vedono costretti nei propri diritti e possibilità di movimento, c'è una difficoltà per le famiglie che vedono le scuole chiuse e non sanno spesso come gestire i propri figli, c'è una difficoltà negli uffici pubblici perché i cittadini hanno ovviamente il diritto di richiedere ed esigere le prestazioni da parte degli uffici pubblici, ma allo stesso tempo ci sono i dipendenti che hanno il timore di gestire in questo momento anche gli spazi a disposizione. Sappiamo però che l'unico modo per affrontare tutto questo è evitare i contatti e quindi evitare che ci sia un contagio ancora più forte di quello che si sta avendo. Non faccio numeri rispetto a quello che lei diceva, ma le posso dire che seguendo minuto per minuto insieme alla struttura sanitaria della nostra città, cioè alla ASL Lanciano-Vasto Chieti, al direttore generale, che voglio ringraziare insieme a tutto il personale della ASL di Chieti, di Lanciano e di Vasto, in particolare quella di Chieti che è il polab della provincia rispetto al ricevimento e anche alla presa in carico dei pazienti affetti da coronavirus, li voglio ringraziare perché stanno facendo un lavoro straordinario, lo stanno facendo nel silenzio e con l'umiltà di chi sa di avere per le mani la vita delle persone e quindi non cerca riflettori ma cerca di dare delle soluzioni. Oggi purtroppo il contagio anche nella nostra provincia inizia a avere delle dimensioni che ci richiedono una particolare attenzione e un'assoluta serietà e severità nell'esame e nell'analisi dei numeri che abbiamo a disposizione. Questo vuol dire che stiamo seguendo un po' il trend nazionale, purtroppo negativamente, ma che possiamo anche per le dimensioni della nostra regione tentare di evitare che ci sia quello che è successo in Lombardia. Situazione all'ospedale Sant'Annunziata, ci sono diverse persone ricoverate, un gran lavoro dei medici del Policlinico Universitario, una situazione che viene monitorata costantemente. Sì, noi siamo andati anche qualche giorno fa a verificare quelli che erano i lavori che sono stati messi in campo dalla Direzione Generale. Parlo del percorso totalmente dedicato a coloro che hanno il sospetto anche soltanto di avere una patologia come quella del coronavirus, in modo da evitare che questi entrino nel pronto soccorso. Abbiamo visto anche l'attività che si sta svolgendo nel reparto di medicina ed infettologia, ma soprattutto abbiamo visto quello che si sta facendo in rianimazione. Lo dico però senza mezzi termini. La regione deve dare la possibilità, sostenendo le iniziative della protezione civile nazionale, affinché noi si possa avere i fondi per realizzare dei nuovi posti letto di terapia intensiva. Se negli ospedali abruzzesi in generale, ma sappiamo che il dato riguarda anche l'intero paese, ma io parlo in questo momento della mia AS, cioè della AS della provincia di Chieti, se noi in ospedale a Chieti non realizziamo nuovi posti per i pazienti che arrivano e in condizioni di criticità hanno bisogno della terapia intensiva con pressione negativa, cioè lì dove non è possibile avere un propagarsi del contagio, noi rischiamo di non poter assistere i cittadini. Questa è una cosa che deve essere compresa. Passando alla città di Chieti, è stato aperto il COC, ne parlavamo prima. Ci sono anche i controlli delle forze dell'ordine per quanto riguarda i locali. Qual è la situazione nel capoluogo? Guardi, le devo dire che già dalla giornata di ieri la maggior parte dei commercianti, ma anche degli esercenti che si occupano di ristorazione o di bar è una condizione che ci fa essere in qualche modo soddisfatti, nel senso che grande senso di responsabilità da parte di tutti, un rispetto pressoché totale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una situazione che comunque viene costantemente monitorata dalle forze dell'ordine, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ma anche Polizia Locale, stanno facendo i controlli sui locali perché ovviamente rispettare anche quella disposizione, che è pesantissima, che peserà tantissimo sull'economia della città e del Paese in generale, ma rispettarla in questo momento vuol dire avere una chance in più per combattere il virus.